Istanbul, Turchia, 17 settembre 2017, il Citi della Spagna Sergio Scariolo alla vigilia, aveva chiesto alle Furie Rosse di uscire a testa alta da questi europei di basket 2017 per regalare l'ennesima gioia ai tifosi, e a Juan Carlos Navarro, che oggi ha detto addio alla Nazionale dopo 17 anni costellati di trionfi, e i suoi ragazzi per l'ennesima volta non lo hanno tradito battendo 93-85 la Russia e conquistando un preziosissimo bronzo, la sesta medaglia messa al collo dagli spagnoli nelle ultime, sei edizioni degli europei. Un successo, quello di oggi, su cui c'è il timbro dei fratelli Pau, 26 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, e Marc Gasol, 25 punti, che ancora una volta si sono caricati la squadra sulle spalle nel momento chiave e hanno sorretto l'attacco roggio con carisma, punti e rimbalzi. Quella della Spagna è stata una vera e propria progressione. Sopra di otto lunghezze dopo il primo quarto concluso sul 21-13, gli iberici hanno dato una poderosa spallata agli avversari con un breat di 11 piazzato nella seconda porzione del primo tempo che ha portato Gasol e compagni fino al più 17 all'intervallo lungo, 45-28. La Russia non si è però persa d'animo e ancora una volta ha costruito la sua rimonta nel secondo tempo riuscendo, grazie al solito Shved, 18 punti, a toccare persino il meno 2 a seguito dei canestri di Tsubkov e Kulayin, 78-76 a 3-33 dall'ultima sirena. Nonostante le difficoltà però la Spagna non ha sbandato e grazie a Gasol, ha respinto gli ultimi assalti russi.